Buonasera a tutti, io sono Chiara Benedettini di Connessioni. Come prima cosa ovviamente ringrazio insieme per questa opportunità di lavoro e di collaborazione comune. Voi ci riconoscete tutti la tastata, penso, il nome appunto Connessioni che ha vari livelli in realtà di comprensione per cui si parte dal discorso tecnico, ovviamente si parla alle commissioni tecniche, di cablanche, di reti eccetera, al concetto di fondo di connessioni legato alla collaborazione e all'incontro appunto tra gli attori del mercato. E questo è stato un po' fino anche alla base del progetto SIE CON THE ROAD. Come siete tutti invitati la prossima settimana a fruire dei seminari ma soprattutto a fruire di questa occasione di networking, quindi di incontro, di condivisione e con l'obiettivo comune di tutti noi e di condividere anche un miglioramento del business. Connessioni è un media, non l'unico, per cui ci farà sicuramente piacere condividere e vediamo per questo l'appoggio anche dei colleghi che sono qui, quindi i servizi di HC, i sistemi integrati e comunque i colleghi che vorranno prendere parte e comunque dare il proprio contributo, noi siamo felici di condividere, pensiamo che siete. Grazie Chiara. Grazie a tutti.